Il primo regionale 12.5.3.0 di Tremidania, anteriore 13.54, provvedente da Lecce e in arrivo al binario 8, il primo regionale 12.5.3.0 di Tremidania, anteriore 14.5.3.0 di Tremidania. Il primo regionale 34.5.3.0 di Tremidania, anteriore 14.5.1 di Tremidia, anteriore 10.0 di Tremidania, anteriore 15.7.0 di Tremidania. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.